Gli uomini sessuali, ho avuto tre che lavoravano con me quando io ero il capo operaio e lavoravano con me. È diventata un fenomeno virale, nelle ultime ore è stata ripresa da tutti i principali siti di informazione italiane fino ad arrivare a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. In un'altra missione che si chiama Lo Schiaffo, è andata in onda questa pietra migliare. Non perdetela questa sera alle ore 23 su Class TV, l'intervista ad Antonio Razzi, te lo dico da amico. Grazie a tutti.